Aiuta lo studente a vincere il concorso scientifico creando una creatura Oh mamma mia, allora facciamo tipo... Ok, esperimento scientifico folle Ma dobbiamo proprio farlo, guarda sì Eh ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef, che stai dicendo a Scribblenaut E siamo qui prontissimi a continuare la nostra fantastica serie Anche oggi ovviamente andremo alla ricerca di stelline E dove andiamo in particolare? Io oggi voglio andare a scuola, dato che ormai la scuola è praticamente finita Quindi secondo me andiamo al contrario, capito? I consolini stanno andando via dalla scuola e noi ci torniamo, ti piace? Mi sembra giusto Però non abbiamo finito di aiutare le persone Perché mancano tre persone da aiutare Quindi uno è qua ed è un vecchietto Eh sì, sì, sì Ok, però gli altri due? Eh non lo so, magari sono in qualche piano diverso della città Forse si può andare anche più in alto Ah, provo ad esplorare al volo col jetpack Bravissima, Fere Grazie Ma sei davvero un campione E gli altri due infatti sono qui sopra Non vediamo nulla, ci sono le nuvole Eh mi dispi... Dobbiamo togliere noi, Fere No, lo voglio fare, spostiamo le nuvole Ok Spostiamo le nuvole Come? Eh, tipo qualcosa che faccia un sacco di aria Ok, quindi? Ma come si chiamano quegli oggetti che fanno... Una ventola gigante Ok Un ventilatore gigante Ventilatore E poi gigante Ok, quindi... Lo appoggiamo lì Lo appoggiamo in un posto che non faccia cadere al di sotto della città Va bene, va bene, Fere Dovevi specificarlo fin da subito Ta Guarda, sta già spostando Ha già fatto Ma come? Lo volevo fare gigante però Anche io, Fere Ma sei azionato da solo C'ha rovinato i giochi Però guarda che bell'arcobaleno qua Bellissimo Eh, turisti, avete visto? Avete visto cosa vi procurano Steph e Ferenichi? Siamo bravissimi I panorami bellissimi Allora, l'altra signorina ad aiutare Ah no, li abbiamo fatti felici entrambi Ah, ok, ottimo Due colpi in uno Voglio andare per mare Ok, allora Mi viene in mente una barca Però voglio qualcosa di strano Io lo so Vai Lo yacht Ovviamente dobbiamo creare lo yacht anche No, era scritto giusto prima Lo yacht anche qui Ok Ecco qua, ecco Ta Vai bello Guardi Altro che barca Voglio venire anch'io E ospitami però, dai No, non mi vuole Eh vabbè È un posto È un posto Abbiamo fatto addirittura uno yacht qua Guardi come siamo bravi È di quelli, capito Che gli regali una cosa E la uso solo lui Allora sai cosa faccio? Non voglio No, smettila Vuoi stare da solo? Adesso è un motivo per starci da solo Ora avrai uno yacht piccolo Dove non ci sta niente la piscina Così impari Ti ho aiutato ma solo a metà Sei una bruttissima persona No, è lui una bruttissima persona No, sei tu Qua devi essere generoso per fare le stelline Non puoi pretendere E allora devono esserlo anche gli altri con noi No, 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 no E finalmente siamo a scuola Guardate che bellina Guardate, guardate Questa è l'aula di chimica di sicuro È un bullo È un bullo Allora Lo vedo arrabbiatissimo quindi un bullo per forza E poi i bulli finiscono male Guardalo Allora Allora Di nuovo, di nuovo Qui ci si prepara Rissa Allora Partiamo da un aggettivo La prigione ci ha forgiato per questo momento No, 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 no Aspetta Ferri Aspetta, aspetta, aspetta Un attimino Gigante Allora Adesso dimmi cosa vuoi fare, bello Vieni qua Vieni che ti do una sberla Si chiama proprio bullo, hai visto? Senza neanche farlo apposta Si chiama bullo E se io li cambio l'aggettivo In bullo gentile Ok Sembri tu nella foto di Instagram E adesso è arrabbiatissimo Però con l'aspetto da gentleman Allora Per me non è sicuro uscire da questa armadietà Con il bullo in giro E non fargli del male Vedi, quindi non voleva scatenare una rissa No, no, non hai capito C'è una persona chiusa dentro l'armadietto Che il bullo ha Che era ovvio Sta saltando l'armadietto da due ore Cosa pensavi che fosse? Ah, non l'avevo capito Dovevamo liberare la persona dentro Allora, quindi dobbiamo Oh mio Dio, calmati un attimo Anche con bullo pacifico Lui è nervoso Non fa calmarlo Non fa calmarlo Allora Aspetta Fammi provare Aspetta Parte da solo? No, lo può controllare lui Voleva farlo morare via Pss Prendi Vai Addormentati Io non ci credo che abbiamo sedato un bullo È al limite del ridicolo questa cosa Non sapevamo come fermarlo Gli abbiamo dato una medicina Per farlo dormire Sono molto soddisfatto E lui è felicissimo Che bellino che è Non posso diventare lui È troppo bellino Sì, puoi diventare lui Io sono felicissimo Mi piace un sacco questo personaggio Però Adesso siamo gemelli Ci siamo fatti prendere dal bulletto Ma c'era tanta altra gente da sistemare Ad esempio lui all'entrata Che problema ha? In cima Ferre, puoi leggere tu? Perché io ho l'asta del microfono E non ci riesco Vai In cima al pennone Dovrebbe esserci qualcosa A cui fare il saluto Quindi una bandiera Suppongo Ok Bandiera Allora voglio aprire una bandiera particolare Mettiamo la bandiera Non lo so Vediamo cosa ci propone Bandiera No, no, no Aspetta, aspetta Sparta Dimmi che c'è la bandiera di Sparta No Ovviamente no Ma non penso che puoi mettere i posti Secondo me devi mettere bandiera E vedere cosa ti dà Ah Vedi no Trada classica Sì, sì, sì Ok Ma dai Ma io volevo fare qualcosa di strano E di particolare No, perché non Qualcosa c'è da fare C'è qualcosa di particolare Esatto Metti al mio interno una bestiola Per la Chi scegliamo? Aspetta Aspetta, aspetta È tua, è tua l'onore Non lo so Non lo so Ma scegliere un animale è la cosa più difficile Che mi puoi far scegliere al mondo Forza, Fede, devi scegliere È un cricetto Cricetto? Andiamo sul classico? Sì Ok Allora, cricetino Ti mettiamo qui dentro Oh, mamma mia Animale domestico Ma non gli dovete fare del male, vero? No Perché in cambio No, non ce ne è presente nei film americani Che hanno l'animaletto da cudire Sì, ma nei film americani Li vivisezionano gli animali No, ma che È quello da cudire per allenare Il senso di responsabilità dei bambini Ok Voglio far ridere Ok, allora ti aggiungiamo divertente Dovrebbe andar bene, no, amico mio? Comico, forse Meglio di così Ah, 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 che ridere Oh, 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 mamma mia E si è trasformato in clown Oh, vabbè Almeno così va sul sicuro E l'altra signorina Ok, ha bisogno di una mano anche lei E voglio incontrare Qualcuno che sta facendo carriera Ok Crea oggetto Uomo da fari? No No, aspetta Ecco, come facciamo a darle qualcuno Che sta facendo carriera? Un calciatore? Anzi no, Justin Bieber Cioè? Ma non esiste Justin Bieber? Si scrive così? Credo Ma è ovvio che non esiste Io lo troverò, Fere Proviamo a mettergli calciatore davvero, dai Ed eccolo qui Justin Bieber Ha funzionato Ha funzionato davvero? Chiedi immediatamente perdono, Fere Non è giusta Ma guarda che brutto Perché gli hanno fatto la bocca così? È davvero bruttissimo, poverino Non ci credo Baby, baby, baby Basta, ti prego Eh, Fere, un attimino Dovevo dedicare No, vedi Non ha funzionato però, eh E allora Perché la ragazzina Che cos'era la stellina di prima? Vuole qualche altra cosa Cioè Le dice che Justin Bieber Non fa carriera Non lo vuole Allora Calciatore Vediamo così se ti va bene Ok Oh mio D Ma è diventata ricca Cioè Vede un calciatore Diventa ricca? Ha fatto da manager Il calciatore Che gli abbiamo portato? Ma questa scuola è incredibile Cioè dovresti essere Una bambina che studia Non devi pensare ai soldi Anzi fai bene Fai bene Brava Brava Bella scelta E guarda Rubiamole il sacchetto di soldi Perché in effetti è stato un po' merito nostro Scusa, eh Grazie Ciao Ciao Buongiorno Buongiorno No, perché stai piangendo? Aspetta 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 Cosa succede? Proteggimi dalle palle avvelenate Ok Ok E come facciamo? Dov'è che arrivano? Ma non lo so dove arrivano Non le ho viste neanch'io Ma se le sta inventando? Ma magari le hanno colpite E quindi è ancora triste Non lo so Ma non c'è nessuno che le ha può tirare Lo rendo gigante Vediamo se da gigante ha meno paura di una palla Oppure atletico Magari se è atletico riesce a schivarle Ha funzionato? Aspetta Dimmi di sì Sì Magari Non aveva senso Io dicevo atletico Perché magari ha qualche problema Nell'attività fisica Ma È il creatore di football americano automaticamente Però Però levagli le goccioline È sudatissimo Poverino Scolaro gigante Ah no Ha posto così È così È così Rimane sudatico anche da gigante Esatto È felice così Buongiorno signora Buongiorno FRLG per favore Metti qualcosa nella mia pentola Per il pranzo degli studenti Ma scusi signora È il suo compito Perché Dovremmo fare noi Il suo lavoro Dobbiamo aiutare Dobbiamo aiutare Cosa possiamo aggiungere? Un ingrediente che piace a tutti Qual è? Certo Non è la pizza Non è la pizza Tenga signora Ma non va bene Basta Ha fatto l'hamburger però Mi scusi Ma stai scherzando? Mi scusi Oddio L'abbiamo ucciso Ecco Ecco Cioè se lei Trasforma una buonissima pizza In un panino È ovvio che ammazza gli alunni Poveretti Ma aiutalo Ti prego Allora Tieni bevi Ok Ora sta meglio Per fortuna Non mangiare mai più in questa mensa Te lo consigliamo Sì guardi Questa signora Non ti devi fidare Trasforma le pizza in hamburger È una pessima idea Quindi non ti fidare mai più A scuola siamo a 8 di 8 aiutati Ok Però se no ti manca ancora la missione principale Esatto Ed è questa cannella Aiuta lo studente a vincere il concorso scientifico Creando una creatura Cosa? Oh mamma mia Allora facciamo tipo Ok Ok Esperimento scientifico folle Ma dobbiamo proprio farlo Guarda sì È il giorno dell'annuale concorso scientifico della scuola Aiuta lo studente a vincere creando una forma di vita Comincia dando una sostanza nutritiva alla meba Ok Oh mamma mia Creiamo un mostro adesso Allora le diamo Cosa le possiamo dare? Allora qualcosa di nutritivo Bistecca Esatto Mi sembra logico Tieni Sì vai Ottimo Ottimo bravo Adesso ci vuole del calore per farla crescere Ok Ok Una sciarpa Come te Ti dà calore la sciarpa Sì 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 La sciarpa è utilissima La sciarpa è utilissima Ecco qua Ma dai C'hai rovinato Ce la mettiamo noi Ok ottimo Se non la vuole lui ce la teniamo noi Allora del fuoco Allora Fuoco Così impari Tieni Aspetta Non gli piace fare Qua È molto complicato Ok Stai iniziando a prendere vita Per poco sta cominciando A crescere Poi dovrei darle ciò di cui Il corpo di una creatura Oddio Si mangerà gli studenti Io te la dico sta cosa Aiuto Allora Ciò di cui un corpo ha bisogno Però una creatura come la sua Di che cosa avrà bisogno? Dei denti Per essere uno Per essere uno Esatto Vediamo Oddio Sta veramente iniziando a crescere Dopo dovrei aiutare L'essere iniziare la società Ma è diventata delle gambe Cioè dov'è adesso? Dove sei? Ma che? Cosa sei? Oh mamma mia Allora Allora Cos'è? Cosa abbiamo creato Fer Esattamente? Allora è un Farfalla mostro No Dobbiamo dare un nome serio Ok Questo è un esperimento molto serio Ok Quindi per favore Facciamo le cose Le cose come si deve Vai Cioè Fer Dobbiamo farli una alla volta così Io ti consiglio Un nome un po' più corto Di rimpicciolirle perché Allora Dimmi un nome più corto Allora in questo Ma stai già iniziando È già un fa Lo chiamiamo Sì devi seguire le mie lettere Inventa mentre io continuo Far E come lo possiamo chiamare? Non lo so Farfo 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 Ok Mi piace Farfo Mi piace Farfo Quindi O E teoricamente Opla E adesso dobbiamo cliccare nella Nella stellina mi pare Questo l'interruttore Fer Ok Farfo Ce l'abbiamo fatta? Ecco il nome Farfo Abbiamo vinto la coppa? Ce l'abbiamo fatta? Mi sa proprio Abbiamo creato Farfo Fa invidia al cricetto che abbiamo messo prima in classe Vero? Fa invidia È superiore È decisamente superiore Allora Siamo arrivati a 6 stelle totali E abbiamo completato il livello Però prima di andarmene via dalla scuola Ok Vi prego fatemi rimanere qua Ok Sì sono qui Che succede? Dov'è Farfo? Non lo so Fere? Era nella classe di scienze Era qua Era qui Lo hanno portato via Io direi che ci possiamo fermare così per questo video Allora fateci sapere con commento e sondaggio Sia dove vorreste andare nel prossimo La prossima volta Vi faccio vedere un pochettino Metterò nel sondaggio sicuramente La caserma Caserma dei pompieri Il ristorante che mi intriga moltissimo Poi questo non mi ha intrigato molto L'ospedale l'abbiamo già fatto Il museo ti prego Il museo Il museo dei dinosauri Che non so dove sia Però So che sia quello Museo dei dinosauri Caserma dei pompieri Oppure Fast food Slash ristorante Votate tra questi tre E magari in un altro sondaggio Metto pure Se preferite Questa skin Oppure quella classica Perché anche questa è una cosa da decidere Quindi fateci sapere queste cose Tanti likes per supportare la serie E ci fermiamo così Bene che se ne esiste Lasciateci un like E se la prima volta che vi ho dato il nostro video Potete considerare I dati iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao